Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV, ben trovati a questa edizione di pranzo del nostro TG e che apriamo subito con una notizia che troviamo in primo piano in questo momento sull'agenzia ANSA e che ci riferisce dell'assegnazione delle bandiere blu alle spiagge italiane in vetta Liguria e Campania ma ce la conferma anche per le due spiagge del Friuli Venezia Giulia che avevano tenuto la bandiera blu anche l'anno scorso ecco qua tutto l'elenco delle spiagge italiane che anche quest'anno potranno sventolare il vessillo azzurro della bandiera blu e vediamo appunto tutti i dati con tutte le spiagge del nostro paese che hanno ottenuto la bandiera blu comprese appunto anche Grado e Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Gorizia e poi in provincia di Udine sicuramente un riconoscimento importante per tutte le spiagge del nostro paese che contribuirà anche a rilanciare il turismo in questa stagione che sta per iniziare in questa stagione estiva che sta per iniziare e che appunto dovrà fare i conti anche con il post pandemia una stagione turistica che è pronta a partire anche grazie a una situazione relativa appunto ai contagi decisamente migliore e soprattutto a una campagna di vaccinazione che prosegue e va avanti in tutto il paese allora andiamo a vedere i dati che ci fotografano la situazione attuale dei vaccini in Italia ecco qua 24 milioni 54 mila dosi somministrate con un totale di 7 milioni 401 mila 862 italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale che quindi possono considerarsi immunizzati per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia i dati ci riferiscono di 491 mila dosi somministrate su un totale di 600 mila arrivate alla nostra regione questi gli ultimi dati aggiornati sul sito del Ministero della Salute tra l'altro a proposito di vaccini la novità del giorno è proprio l'apertura delle prenotazioni per la vaccinazione anti covid per le persone che hanno dai 50 ai 59 anni di età sono circa 200 mila le persone interessate appunto da questa possibilità di prenotare il vaccino a partire dalla giornata di oggi prenotazione presso i call center presso gli sportelli della cup le farmacie abilitate e anche il web la web app ad oggi ha sottolineato l'assessore Riccardi sono state vaccinate più di 300 mila persone sia queste si aggiungono gli oltre 100 mila cittadini che hanno contratto il virus e sapendo che il Friuli Venezia Giulia ha circa un milione di abitanti con più di 18 anni possiamo dire ha sottolineato Riccardi che al momento sia stata immunizzata circa il 50% della popolazione maggiorenne con l'apertura oggi delle agende alla fascia 50-59 contiamo di superare il target delle 70 mila vaccinazioni alla settimana e a proposito di vaccini in un intervento ufficiale il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha sottolineato che non sarà grazie alla liberalizzazione dei brevetti che aumenterà la produzione di vaccini contro il SARS-CoV-2 dunque dobbiamo chiederci se liberalizzando i vaccini la produzione aumenta la risposta è no, ha detto Cartabellotta la produzione purtroppo non dipende solo dalla disponibilità del brevetto queste dunque le opinioni del presidente della fondazione Gimbe invece quelli che stiamo vedendo sono gli ultimi dati diffusi proprio oggi dalla Genas per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in particolare delle terapie intensive negli ospedali del nostro paese ecco qua i dati, le terapie intensive sono al 24% quindi sotto la soglia critica del 30% i dati sono aggiornati appunto alla giornata di ieri continua quindi a calare a livello nazionale il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid quindi siamo al 24%, solo tre regioni superano la soglia delle 30% Lombardia, Toscana e Puglia e poi vediamo anche i dati relativi all'occupazione dei posti letto in area non critica siamo al 25% quindi sotto la soglia di allerta ma torniamo a parlare di vaccini adesso perché l'Europa ha deciso di non rinnovare il contratto con AstraZeneca ma di scommettere su altri produttori questo perché AstraZeneca ha consegnato solo un quarto delle dosi pattuite questo dice l'Europa, sentiamo Europa e AstraZeneca verso il divorzio la Commissione non ha rinnovato il contratto con l'azienda anglosvedese in scadenza alla fine di giugno una mossa attesa dopo che Bruxelles aveva avviato un'azione legale per inaffidabilità contro il produttore di vaccini anti-Covid intanto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca attacca c'è una carenza di vaccini a livello nazionale mentre il Lazio ha esaurito le prenotazioni di Pfizer per maggio e la Lombardia apre alle somministrazioni per iover 50 forte dei contratti siglati con gli altri rappresentanti di Big Pharma dimostratisi più affidabili l'Europa si prepara dunque ad interrompere le forniture di AstraZeneca con la fine del semestre non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno, vedremo cosa succederà ha detto il commissario al commercio interno Breton che non ha espresso critiche nei confronti del vaccino invece è definito molto interessante e molto buono soprattutto per le condizioni logistiche e le temperature cui può essere conservato ora, ha sottolineato tuttavia il commissario abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e i vaccini di seconda generazione nel primo trimestre dell'anno AstraZeneca ha consegnato alla Commissione europea un quarto delle dosi patuite 30 milioni invece di 120 milioni Bruxelles ha dunque deciso di scommettere su altri produttori ritenuti più sicuri ed in grado di soddisfare il fabbisogno dei 27 nella seconda parte dell'anno rimanendo in ambito nazionale c'è un'altra notizia in primo piano in queste ultime ore ovvero gli sbarchi a Lampedusa proseguiti anche nella notte sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635 migranti la situazione all'hotspot di Lampedusa è veramente difficile in 24 ore sulla piccola isola si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 persone trasferite all'hotspot che ovviamente è in grande difficoltà e dovrebbero iniziare le operazioni per lo spostamento di questi migranti in altri centri d'Italia Ancora la cronaca nazionale con le cerimonie del Presidente della Repubblica Mattarella in ricordo delle vittime del terrorismo e delle stragi che sono state ricordate ieri a Palazzo Madama sugli anni di piombo ha detto Mattarella ci sono ancora verità da chiarire sentiamo la completa verità sugli anni di piombo è un'esigenza fondamentale per la Repubblica il capo dello Stato Sergio Mattarella lancia un messaggio chiaro nel giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi che ha conciso quest'anno con la beatificazione del giudice ragazzino Rosario Livatino, vittima di mafia una sollecitazione, quella della verità, sottolineata anche dai Presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico nella cerimonia a Palazzo Madama dove il Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Bologna Paolo Bolognesi ha lanciato precise accuse sui depistaggi il terrorismo, ha detto Mattarella, aveva il disegno cinico di destabilizzare la giovane democrazia disegno tuttavia isolato e cancellato nei anni di piombo, ha proseguito il capo dello Stato, è la statura della nostra democrazia è la Repubblica ad avere prevalso contro l'eversione che aveva nel popolo il proprio nemico tuttavia ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità non pienamente chiarite e l'esigenza di completa verità è molto sentita dai familiari l'esigenza di fare completa verità è stata sottolineata con forza anche da Casellati e Fico durante le cerimonie al Senato a cui hanno partecipato i familiari delle vittime svoltasi dopo l'omaggio ad Aldo Moro in via Caetani dove 43 anni fa fu rinvenuto il suo corpo il 9 maggio 1978 il ricordo di Moro è stato associato da parte di molti a quello di Peppino Impastato ucciso anche egli in quel tragico giorno dalla mafia sul mandato del boss Badalamenti è stata fissata intanto per il 30 giugno in Francia l'udienza sul procedimento di estradizione di Luigi Bergamin l'ex militante dei PAC che si è costituito il 29 aprile scorso dopo il blitz delle forze dell'ordine francesi che ha portato all'arresto su richiesta dell'Italia di nove terroristi compreso l'ex PAC condannato per concorso morale negli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente della Digos di Milano Andrea Campagna venuti nel 78 e 79 intanto in Italia alla Corte d'Assise di Milano è in corso una battaglia sulla dichiarazione della prescrizione della pena di 16 anni e 11 mesi che è stata inflitta a Bergamin proprio per quegli attentati nei prossimi giorni ci sarà la decisione ufficiale anche a proposito secondo i legali difensori di Bergamin la pena si è prescritta l'8 aprile scorso ma adesso veniamo a Udine per parlare di lavori pubblici allora ci colleghiamo con la nostra truppa esterna con Francesca Santoro che si trova in via Gemona dove oggi è stata sancita ufficialmente la chiusura del cantiere per i lavori di risistemazione della strada Francesca buongiorno a te la linea Sì buongiorno Angela in via Gemona oggi la conclusione dei lavori di rifacimento del Porfido quindi una nuova pavimentazione per una delle strade più importanti del centro storico di Udine presenti a una piccola cerimonia di riapertura sia il sindaco Pietro Fontanini che il vice sindaco Loris Michelini la strada al momento è aperta per i frontisti e per le biciclette mentre sarà aperta ufficialmente al traffico veicolare indicativamente alla fine di questa settimana dal momento che la resina che è stata utilizzata per unire i cubetti di Porfido bisogna ancora di qualche giorno per asciugarsi e per aderire perfettamente ci ha spiegato tutto il sindaco Pietro Fontanini vediamo l'intervista e poi linea allo studio Un'altra strada del centro storico via Gemona rimessa a posto si rimessa a posto e rimessa con grande tempismo nel senso che i lavori sono durati pochissimo meno di un mese io ringrazio veramente la dita che è stata bravissima abbiamo adottato il solito metodo Porfido con una resina per tenere i blocchetti legati tra di loro e che non saltino è un metodo che abbiamo già utilizzato in via Poscola in via Quileia e quindi anche qui in via Gemona Un accorgimento particolare per gli attraversamenti pedonali? Sì, abbiamo voluto mettere delle lastre bianche proprio per non dover dipingere i passaggi pedonali in continuazione perché purtroppo adesso con le resine ecologiche le cose durano poco allora invece con le pietre bianche i passaggi pedonali resteranno e tra l'altro sono ben visibili perché è importante rispettare anche i pedoni che attraversano la strada Sul fronte della viabilità dei parcheggi nulla cambierà rispetto a prima? No, resteranno i parcheggi come erano prima Via Gemona in pratica ha avuto questa modifica soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione ma per quanto riguarda l'utilizzo quindi i parcheggi ai lati della strada restano come erano prima L'effetto covid continua nel mercato delle auto in Friuli Venezia Giulia dopo aver registrato nel 2020 una perdita di quasi 9.000 immatricolazioni meno 26% il primo quadrimestre di quest'anno segna il meno 16,2% a livello regionale lo rileva Confcommercio Friuli Venezia Giulia precisando che il confronto è sul 2019 dato che quello sul 2020 sarebbe disomogeneo visti i due mesi di lockdown della scorsa primavera la situazione è fortemente negativa afferma il capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio, Auto, Moto e Ricambi, Giorgio Sina l'emergenza sanitaria ed economica incide ancora in maniera significativa con effetti in particolare sulle vendite ai privati nel dettaglio delle cifre se da gennaio ad aprile 2019 si erano immatricolati 12.218 veicoli nei primi quattro mesi del 2021 spiega Confcommercio si è scesi a 10.235 quasi 2.000 in meno meno 16,2% appunto a livello provinciale in tutti i territori le vendite vanno all'ingiù dal meno 13% di Pordenone al meno 19,5% di Gorizia passando per il meno 15,4% di Trieste e il meno 17,7% di Udine Sina osserva che nei mesi in cui si sono reintrodotti gli incentivi a livello statale i riscontri sono stati positivi e dunque auspichiamo si legge nella nota che si possa rifinanziare la misura che consente tra l'altro di riammodernare un parco auto che anche in regione per il 60% ha oltre 10 anni di servizio la stessa richiesta va alla giunta del Friuli Venezia Giulia opportuno rifinanziare gli incentivi sull'ecologico nel 2020, ricorda Confcommercio l'elettrico ha conquistato il 2,7% del mercato con un più 225% mentre l'ibrido è salito al 25% con un più 455% nel plug-in e un più 126,6% nel tradizionale e da oggi è consultabile nel cassetto digitale il 7,30 precompilato lo scorso anno solo un contribuente su 5 lo ha accettato così com'era senza effettuare alcuna modifica segno che le banche dati e qui attinge l'agenzia delle entrate necessitano ancora di qualche assestamento ma quali le novità di quest'anno per i contribuenti? lo abbiamo chiesto al commercialista Alberto Maria Camillotti sentiamo il 7,30 per compilato da oggi è visibile dalla prossima settimana sarà anche modificabile è questa novità che riguarda il modello per i lavoratori dipendenti che come sappiamo da un paio d'anni l'agenzia delle entrate fornisce sul cassetto fiscale di ogni singolo contribuente e il contribuente ha la possibilità di accedere, visionarlo decidere se accettarlo così come proposto all'agenzia delle entrate oppure fare le modifiche nel caso in cui lo accetti così com'è ha una serie di agevolazioni in termini di accertamento perché l'agenzia in sostanza se tutti i fili di quello che propone lei non viene a fare controlli altrimenti se il soggetto ritiene che quanto precompilato dall'agenzia non sia sufficiente o manchi di alcune spese o di alcuni redditi può modificarlo e conseguentemente rientra nel novero di tutti coloro che presentano autonomamente il modello 730 ci sono delle novità particolari che stanno considerando i vari sgravi che sono stati previsti ci sono due novità fondamentali una riguarda i lavoratori dipendenti che hanno reddito fino a 50.000 euro e che troveranno compilando il 730 uno sgravio che è il cosiddetto bonus Renzi riproposto e potenziato anche per i redditi un po' più alti del limite che c'era precedentemente l'altra novità importante è il famoso ormai 110% per cui chi ha cominciato ad eseguire lavori già da luglio 2020 e quindi ha speso da luglio 20 fino a dicembre 20 comincerà ad entrare le prime rate in questa dichiarazione l'altra novità importante che ha riguardato l'esercizio 2020 per cui le spese che ci detraiamo adesso quasi ormai per tutte le spese tranne quelle per le spese sanitarie fatte in farmacia o presso strutture pubbliche è obbligatorio il metodo di pagamento tracciato obbligatorio nel senso che se il metodo di pagamento è stato il contante per moltissime spese oggi non c'è la possibilità della detrazione questo è un po' un inconveniente perché la regola è nuova dal primo gennaio 20 ma i contribuenti solo oggi recuperano e mettono alla luce quelle carte da portare in detrazione per cui magari un anno e mezzo dopo potrebbero accorgersi che alcune spese fatte soprattutto nei primi mesi del 2020 non sono oggi detraibili è il momento dello sport oggi vigilia di campionato per l'Udinese scende in campo invece questo pomeriggio il Pordenone notizie importanti anche sul fronte basket e allora subito da Alessandro Surza per tutti gli aggiornamenti live dalla Dacia Arena buongiorno Alessandro buongiorno buongiorno Angela esatto come hai detto tu è un lunedì davvero pieno per lo sport friolano perché per l'Udinese sia la vigilia la giornata di vigilia della gara contro il Napoli programma domani al Maradona Stadium proprio di Napoli alle 20.45 gara che aprirà il turno di Serie A mentre per il Pordenone è match day perché oggi si giocherà tutta una stagione contro il Cosenza che potrebbe anche essere in caso di sconfitta proprio lo scontro dei play-out perché è la prima volta che due squadre si affrontano nell'ultimo turno di Serie B e poi rischiano di rivedersi ai play-out ed è post partita quindi il day after per quanto riguarda l'Apu che ieri ha vinto a Forlì andiamo con ordine Udinese Udinese oggi impegnata in rifinitura alle ore 14 e sarà una rifinitura veramente importante perché si potrà capire se Becao e Arslan faranno parte o no della spedizione azzurra o addirittura se magari possono partire ma andare in panchina perché Becao era addirittura uscito nel corso del primo tempo nulla di troppo grave il brasiliano sta bene però è comunque da valutare vista la gara ravvicinata Arslan invece è rimasto in campo addirittura più a lungo poi era stato sostituito per scelta tecnica però poi nel contrasto che aveva subito si era rimasto insomma dolorante acciaccato quindi si valuteranno addirittura forse è più probabile rivedere Becao che addirittura era uscito prima quindi insomma rifinitura molto importante proprio perché detterà un po' la linea di quella che sarà la formazione chiaramente se non ce la fa Arslan Pereira Cala gioca Forrestieri se non ce la fa Becao c'è De Maio con Samir che non è ancora al 100% c'è invece Gliorente che ormai si è riunito al gruppo già nella giornata di ieri e quindi partirà chiaramente e sarà abile e arruolabile però per il resto la formazione sulla carta non dovrebbe essere toccata ma attenzione perché Gotti aveva detto che nell'arco degli otto giorni qualche cambio ci potrebbe essere quindi poi infine non ci stupiremmo se dovessimo vedere gente come Awejan o Zegel a riprendersi o anche Macchengo il posto titolare dopo tante tante panchine nell'ultimo periodo questo per quanto riguarda l'Udinese per quanto riguarda il Pordenone come detto gara fondamentale contro Cosenza il Pordenone alle 14 al Teghil sfiderà la squadra rosso-blu dell'ex Tremolada con la vittoria con il pareggio il Pordenone è salvo matematicamente non si va nemmeno ai play-out perché ci sarebbero più di 5 punti con la sconfitta invece ecco che si va allo spareggio salvezza per quanto riguarda l'Apu invece ieri è arrivata la grande vittoria contro Forlì all'Uni Euro Arena Forlì che non aveva mai perso in casa Angela ha perso ieri contro l'Apu che con questa vittoria si rilancia totalmente può addirittura arrivare al secondo posto e questo significerebbe tutte le gare delle fasi successive dei play-off che è una cosa molto molto importante questa quindi attenzione perché si sta aprendo uno scenario davvero importante grazie alla vittoria supersonica di ieri allora a proposito di Apu vediamole e sentiamo le parole di Amato grande protagonista con 13 punti Andrea quella di questa sera a Forlì è stata una vittoria che vale doppio perché vi consente di agganciare proprio la formazione di Dell'Agnello al termine di una sfida che è stata molto temprante dal punto di vista nervoso ma che avete conquistato con merito sì è stata una partita difficile è stata una partita molto lunga piena di fischi molto nervosa siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo nonostante un inizio non facile siamo stati come un diesel durante la partita abbiamo aumentato l'intensità siamo andati sempre abbiamo aumentato sempre di più e le abbiamo messe in difficoltà e alla fine siamo stati bravi a gestire il vantaggio con le giocate di Dominic e le giocate di Antonutti che dire siamo molto felici di questa vittoria una dedica va a Marco Giuri che si è fatto male ieri e speriamo che rientri il più presto possibile non ci sarà molto tempo per rifiatare perché mercoledì alle 18 al Carnera arriverà Napoli capolista attualmente assieme a Torino ed è l'unica squadra finora che vi ha battuto in questo girone sì arriva Napoli non è una sorpresa sappiamo che ci hanno messo in difficoltà due partite su due e cercheremo di far valere il nostro fattore campo perché vogliamo una vittoria assolutamente contro Napoli e allora prima di salutarci vi ricordo che saremo nuovamente in diretta dalle 14 con un'edizione anticipata di pomeriggio calcio proprio per seguire anche la gara del Pordenone che inizierà proprio alle 14 a Lignano poi TG in diretta anche alle 16 alle 19 e alle 22.30 l'ultima edizione di giornata alle 20.30 alle Cronache dal Veneto e come ogni lunedì in prima serata Udinese Tonight è tutto per questa edizione del nostro TG grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio a tutti musimy avere